buona sera a tutti sono luigi un arac super video e bentornato da un z combattolo versione japp con l'analisi dei due nuovi buffer quindi tn e buccolo entrambi pg ragazzi che nessuno si sarebbe aspettato fossero così buoni partiamo con quello che non ho trovato purtroppo ovvero tn ottenibile nella batch di veget abbiamo 12.091 hp per 10.756 attacco e 6.782 difesa leader secondario della categoria earthlings non male tre chi e 120 per cento purtroppo non è leader secondario della categoria di veget ma non si può aver tutto dalla vita mi vuol dire però ci può stare passiva tre chi e stat 150 per cento ormai il resumo l'anno stat bonus più alte di dokkan fest più 70 per cento d'attacco nel momento in cui si lancia una special tale valore è sommativo quindi arriva tranquillamente a 220 per cento d'attacco non male ragazzi non male tutti i majinbu busaga super prendono 30 per cento attacco e 50 per cento di difesa molto intelligente il fatto di dare un boost difensivo così alto che si è capito che la difesa è il valore più importante in molti eventi buffer su cui c'è poco da dire la limitazione solo super lo rende un pochino meno utile nel caso voglio giocare un busaga con anche i boo però nel caso di super busaga ragazzi penso che non serve che ve lo sto a dire io di quanto è forte questo pg fa davvero tante tante belle porcatelle diciamola così fa davvero tante tante belle porcatelle un buff davvero buono per un pg che oltre ad essere un buffer è anche bello pieno alte chance di stannare il nemico attaccato quindi solo per quel turno di un 40 per cento non male sarebbe meglio nella special non stand però è accettabile comunque la sua special riduce di molto attacco e difesa dell'avversario un buon 30 per cento link purtroppo solo un pochino il punto debole abbiamo crane school solid support ne z fighter che non verranno mai utilizzati al meglio ma d'altra parte abbiamo experience fighter call judgment coraggio che bisogna obbligatoriamente portare a livello 5 in quanto prima fa davvero cagare e fierce battle che verranno utilizzati abbastanza più categori majin bussaga world rival search link saviors allora il pg lo reputo inferiore a buccolo per sia il fatto delle minori categorie sia il fatto che non riesce a supportare al cento per cento bussaga salvo farlo totalmente super ciò nonostante è uno dei migliori buffer del gioco un rr che a mio avviso è da avere non ci sono se non ci sono mai uno di quei pg da avere da quanto è buono infatti mi dispiace non averne trovato manco una copia beato blasi che se l'è portato ability 2 poco da dire beato blasi che se l'è portato ability 2 è molto buono comunque io lo builderei full additional nel caso vogliate massimizzare il debuff e le possia di stun o full critico se invece volete farli fare da dps secondario magari tenendolo anche in turno se non avete chissà quale team bussaga avete trovato il nuovo budget magari full critico a tenere in turno con budget perché vi mancano pg migliori non sarebbe da buttare davvero davvero buono promosso poco da dire uno di quei pg che spero di trovare nelle prossime batch ehi ragazzi avete mai voluto una stampa di alta qualità di dragon ball come questa oppure come questa o ancora come quest'altra da oggi a solo 8 euro a stampa potrete avere tutte quelle che volete cercate tomitzconart su instagram guardate il lampissimo catalogo di stampe già effettuate oppure richiedetene una voi stessi come se non bastasse potete andare nel canale youtube che trovate sempre nella pagina instagram per visualizzare come vengono fatti i prodotti o tramite il codice priscilla fare più acquisti con lo sconto comitzconart per le migliori stampe di dokkan in italia passiamo invece a quello che reputo essere il migliore dei due pg per alcuni motivi ovvero buccolo agl abbiamo 1810 hp per 10468 attacco e 6628 di difesa leader skill power absorption la nuova categoria 3k 120% stats in realtà si può vedere anche quei mini leader si chiama jim power che artificial life form che quindi anche in un certo senso si chiama in pratica un mini leader di tutte le sue categorie si riesce a usare in tutte quante quindi good job passiva 15% di recovery in inizio turno e già iniziamo ad avere queste recovery assurde altissime 3kiesta 150% in inizio turno ottimo andrà sempre in special ma soprattutto ha già dei buoni valori anche se non fa tantissimi danni ability free power absorption più 30% attacco e 50% di difesa ottimo anche questo come tiene riesce a prendere tutti quanti anche se sono prevalentemente extreme quindi in questo caso non hanno fatto la distinzione perché è una categoria abbastanza più ristretta però tanta roba avere un boost a tutti quanti i buoni non è male 25% possiede di evadere gli attacchi avversari quindi nonostante già abbia delle difese molto interessanti ha un'ulteriore difesa sua e 40% se non sbaglio nonostante 50% di stun con la special rendendolo quindi in un eventuale team per la road extreme agl un pg davvero ottimale infatti non vedo l'ora di provarlo adesso che inizierò a portare il video anche delle extreme super battle road link alcuni link anche lui così così o meglio uno ovvero demonic ways che sinceramente se ricordo bene non trova spazio in nessuno dei suoi team se confermo trova spazio unicamente nel miracolo contro ogni senso in cui vi si evolvesse in buco lo shit boo ma la vedo molto difficile gli altri sono ottimi brainiacs ottimo metamorfosi ha bisogno del livello 5 magine ha bisogno del livello 5 nightmare the world standing tall e first battle davvero davvero buono categorie magine boost anche transformation boost artificial life form magine power power absorption build consigliata full additional anche qua danni non ne fa molti quindi andate in additional rendete quello stun bello cattivo bello forte e non avrete problemi in moltissimi eventi è davvero un pg fatto ad hoc per essere giocato con il nuovo buan di cui avrete l'analisi nei prossimi giorni davvero sono soddisfatto l'ho trovato è stato il primo pg che ho trovato nella batch e funziona bene ma aspettavo qualche dannino in più ma è ability free è ability free quindi bisogna accettarlo spero di trovarne qualche altra copia in futuro così come ho trovato tantissimi nail tantissimi gohan str speriamo anche per lui perché può davvero dire la sua detto questo cosa ne pensate se li avete trovati o no e noi ci vediamo presto con il prossimo video buona serata buona serata buona serata buona serata buona serata